Allora, come fare le bolle di saliva? Queste sono facili, si possono anche sparare per aria come se fossero bolle colorate, così un po' come se fosse sapone. Vediamo, vediamo, faccio vedere prima se le sai fare, aspetta, ti sento in cazzo, le sai fare, ok, ok, va bene, allora tu praticamente con la lingua fai così, sotto, ok, vai sotto, ok, e poi, vai, 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 di nuovo, però prendila sta bolla eh, no però non stai spiegando come si fanno. Allora, in quale era qua? Sì, ah le peschi da sotto, cioè tutti li abbiamo, solo che non riusciamo a prenderle. Ah ah, ok, questo è venuto da sputato, allora, molto bella, però non ti capisci, bella, ma Ale a che serve? Cosa serve? Cioè tu tipo ti hai servito un po'? Nella vita sì, pare che buona. Cioè a conoscere gente? Sì, conosce un sacco di gente, poi insomma fai divertire i bambini, fai incazzare gli altri, quando gli esplode la bolla, se c'è qualcuno che ti sta sul cazzo, paa, gli esplodi questa bollazza. Ma ci vai ai raduni? Sì, sì, facci di workshop, workshop di bolle di saliva. Bellissime. Ok, ripassi vedere l'ultima volta come si fa. Eh, adesso mi avete fatto parlare. L'importante è, cioè questa cosa se lo si fa un quarto d'ora dopo che si è lavato i denti, si riesce. Però non devi mettere niente in bocca, cioè se sono lavati i denti, basta. Esatto, cioè tu fai così, no? Il problema è di vedere se si capisce. Vai. Ok. Rifai questo movimento varie volte. Ok. E poi la puoi sputare. Eh, 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 è pensato di fare un ah, eh, tipo. Ok. Vabbè, tipo quando fai gli anelli di fumo con le sigarette. Ah. Molto bene. Molto bene. Grazie Alessandro. Alla prossima lezione. Alla prossima lezione. Congino.